eh c'è il riso si ma la facciamo tutti questo riso io vengo andando ogni tanto è un po' di mezzato vieni a mangiare qua è un po' di mezzato è un po' di mezzato è un po' di mezzato è un po' di assaggio assaggio tempo dove stai? io non scocci non scocci è un po' di mezzato è un po' di mezzato se sono buono è bene per me non posso mettere il piatto ora c'è un po' di mezzato aspettano che ho 3 giorni che sono 3 giorni che non mangiano vieni qua assaggiate pure le spalle rosse le spalle rosse le panze rosse le panze rosse le panze rosse si a mangiare la prima la prima assaggiare 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 è un po' di me sono buon è un giro di eccesso e questo? un giro, non mi sa niente è un giro e questo giro pure? un giro assaggiamo 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 lipo 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 che è? sono buono? lipo 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 che è? lipo che è lipo? sono buono? si si sono buono spettacolare è troppo bello che si sa sono buono ciò abbiamo fatto ora rimanere la volta facciamo direttamente una caurale rizzo mamma vuoi la muzzella? come? la muzzella oh quanto hai visto? manchi ma sono troppo assaggiamo l'acqua liscia sono troppo assaggiamo se ne è proprio che fulmaggio sono troppo assaggiamo se non si è esagerato le quantità veramente dai chissà dai vabbè un bacio non è male o fumo? troppo assaggiamo troppo assaggiamo troppo assaggiamo troppo assaggiamo troppo assaggiamo troppo assaggiamo no? niente collante? sì? collante? bella zussa eh? da me mh meglio che questa è buona trovata ho fatto un giro per dentro dei trattori di Napoli mh cucinano tutto rosa tutto cosa si c'è friarie la pasta di fasura la pasta di patana la spaghetta di olio non c'è una cosa perché non c'è quella vieni se fanno qualche trattori feris casard ci sta? lo hai visto? pensi di sì? e fammi sapere quale trattori feris casard mi trovi vieni se vieni se lo trovo lo trovo? a me no perché non è presentabile ma ti sono salatissimi mamma mia questo è questo è questo è questo è quasi un po' vero che ce l'avevo stiamo quasi qua per il cupiale mamma ma perché non c'è una volta una bomba sta a botta ma che giro questa per me è immondizia non si dice io dico questa è immondizia e non mangia non aspetta un'ora e un quarto al di fuori che l'orario che mangiamo poi ho fatto pranzo e cena devo assaggiare di risa così scusi non devi mangiare non la rispetto 3 uri cazzo non mangia niente facciamo mangiare e mangiate pochi di fumaggi ma ti ho già mangiato il fumaggio eh il sangue è saurito basta basta dai la chiudiamo qua bene c'è assai salami e baglioni di cimicetta baglio ris ma ti raccomando facete un pranzo e una cena senza i risa perché non è pranzo è cena mentre c'è un ristorante fa tutto i risa sono buono quando fanno c'è un spuso vorrà chiesi e buttano